Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché presidente della commissione consigliare pari opportunità del comune di Taranto, consigliere appunto, consigliera comunale. Vuole rivolgere gli auguri alla comunità tarantina e non solo in un momento particolare, quello che stiamo vivendo, la pandemia. Grazie Luigi di darmi questa opportunità. Già l'anno scorso io ho lavorato molto sui social per cercare di dare un sostegno emotivo a tutte le persone che sono mie amiche e miei amici di Facebook, che sembrava veramente un periodo interminabile. Purtroppo ci ritroviamo dopo un anno, è la seconda Pasqua che noi viviamo col distanziamento e con la grande preoccupazione, perché se voi ricordate l'anno scorso non avevamo i numeri noi a Taranto, anzi sembravamo una città felice, un'isola felice rispetto ai numeri delle altre città. Improvvisamente a distanza di 12 mesi abbiamo trovato, vediamo ribaltato questo risultato e sembra che questa epidemia, questi numeri non calino. Mi sono molto preoccupata, sono preoccupata soprattutto per il sostegno emotivo che forse sta mancando ai nostri ragazzi. Io seguo le famiglie, seguo tante famiglie, voi sapete quali sono i temi che mi stanno più a cuore e non nascondo la mia preoccupazione soprattutto per l'emotività dei nostri ragazzi, che sono costretti a casa da troppo, troppo tempo, non vanno a scuola, distanziati dagli amici, per cui occorre veramente dare loro un sostegno sia da parte nostra delle istituzioni che da parte delle famiglie. Non sempre le famiglie si accorgono del disagio dei loro ragazzi. Un'altra preoccupazione è quella che le persone più fragili, come può essere un adolescente, magari insicuro, può essere preda dei pirati su internet e quindi approfittano proprio di questa solitudine, di il fatto che questi nostri ragazzi e ragazze passano molte ore davanti al computer per agganciarli. E tanti sono stati casi che vi ha visto occupati voi giornalisti dei fatti di cronaca. Quindi nel farmi i vostri auguri dico ai miei cittadini non molliamo, non molliamo distanziamento, mascherina, gel, continuo. Facciamo scendere questa curva e soprattutto facendomi gli auguri, facendovi a tutti voi gli auguri più cari e affettuosi dalla mia parte, vi prego un occhio ai vostri ragazzi, un occhio ai vostri bambini. Guardate con chi chattano, guardate con chi entrano in contatto, cercate di tutelarli da un mondo nero che sa dall'altra parte dello schermo. Questo mi preoccupa molto, ma noi istituzioni in cui ci siamo e da noi potete rivolgervi per qualunque chiarimento. Anzi, tramite te Luigi possiamo dire che dobbiamo magari creare un sistema di comunicazione dove una mamma, un papà che hanno bisogno di avere qualche notizia, a chi rivolgersi, cosa fare, se hanno un dubbio, possano farlo. Uno sportello di utilità sociale. Ti strappo una promessa perché il ruolo di voi giornalisti è fondamentale in questo momento per veicolare l'informazione. Secondo anno senza i nostri riti della nostra settimana santa, che per noi il popolo di Taranto significava l'unione, la compartecipazione, la condivisione di un percorso. Posso dirvi solo, amici, auguri alle vostre famiglie, auguri ai vostri parenti che magari stanno male o che non potete vedere. Io stessa sarò lontana da una parte della mia famiglia, mio figlio, mia nuora e questo mi dispiace e mi rende veramente dispiaciuta, ma per il suo bene e la sua salute che sono costretta a farlo. Vi auguro una serena Pasqua. Mantenete le distanze. Facciamo scendere tutti insieme questa curva e sapete a chi rivolgervi per qualunque dubbio vi possa attanagliare. Auguri di cuore.